Noi guardiamo avanti, lo ha affermato il primo cittadino stamattina in conferenza stampa. L'amministrazione fanese è a favore degli operatori balneari, anche se l'allungamento della stagione estiva non può essere improvvisato, ma si impegneranno ad organizzare eventi collegati alle bellezze naturali e culturali che offre la città di Fano e a programmare iniziative collaterali, arricchendo quindi le opportunità per il turista. Non si improvvisa l'allungamento della stagione, il vero obiettivo per il turismo del nostro territorio è quello di fare in modo che sia più lungo, quindi farlo partire prima e farlo prolungare anche quando il tempo magari non è come a luglio ed agosto. Per fare questo ci vuole occorre programmazione, bisogna pensare iniziative che possono attrarre persone, che non possono essere attrate soltanto dal mare, oppure come è avvenuto quest'anno o anche lo scorso anno in parte, se c'è una stagione sfortunata con tante piogge come è avvenuto nel mese di luglio, bisogna essere attrezzati per offrire alternative al turista che è nel nostro territorio. Quindi l'obiettivo che noi abbiamo è proprio questo, non a caso, noi l'avevamo già annunciato in campagna elettorale, vogliamo essere professionali. Non è ancora finita la stagione estiva, già stiamo pensando come organizzare, come programmare la prossima stagione. Abbiamo delle idee, ma le idee ovviamente sono convinte che ci arriveranno anche da operatori, da associazioni che sono nel territorio, in modo tale che possiamo attrarre persone anche nei mesi di maggio e giugno. Fra l'altro il prossimo anno sarà anche la ricorrenza dei 30 anni del gemellaggio con la città di Rastat. Sto pensando a delle iniziative che voglio condividere anche con i nostri operatori per fare in modo che magari tedeschi di quei territori possano pensare di trascorrere delle giornate nel mese di maggio e giugno nel nostro territorio. Se gli operatori balneari volessero proseguire fino alla fine del mese di settembre, avranno una collaborazione da parte dell'amministrazione? Beh, sicuramente. Noi, come abbiamo detto, siamo favorevoli al fatto che si possa prolungare la stagione estiva, ma questo ovviamente non dipende da un'ordinanza o da un atto amministrativo, dipende dalle condizioni climatiche e dal movimento che si riesce a creare. Da parte nostra nulla osta. Fra l'altro, devo dire che proprio ieri in giunta abbiamo anche deciso di procrastinare, di allungare l'assistenza anche nelle spiagge libere. Questo è già un segnale che va verso questa direzione rispetto al passato. Abbiamo destinato alcune piccole risorse che possono allungare questo servizio. Ovviamente è una scelta facoltativa degli operatori stessi che terrà conto di diversi elementi.